Si chiamano NIT, acronimo coniato molti anni fa nel Regno Unito per indicare i giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno smesso di studiare, che non lavorano, che non fanno formazione, not engaged in education, employment or training e questa è la ticitura in inglese. I NIT in Italia sono più di 3 milioni, il 26% rispetto al dato medio europeo che si attesta intorno al 15,2%, rappresentano evidentemente un problema destinato a diventare sempre più un fenomeno sociale, molte sono le iniziative che soprattutto negli ultimi anni i governi, le regioni mettono in campo per trovare a queste giovani preziose energie, sbocchi e possibilità di lavoro e di futuro. Ne parliamo con Pasquale Penza della Isco APL, un'agenzia per il lavoro nata a meno di un anno fa da Tripalda, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'esperienza di APL ci torna utile per comprendere meglio il problema e di verificare attraverso una struttura che si muove sul territorio e sul campo cosa e se qualcosa sta cambiando. Io partirei Pasquale però dal dato che abbiamo anticipato, un fenomeno sociale destinato anche ad avere esplosioni non piacevoli, perché se una 3 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studia, non lavora, non fa formazione, beh alla lunga questo diventa un problema esplosivo, soprattutto nel mezzogiorno, dove per esempio le quote dei NIT superano ampiamente, quasi raddoppiano il dato di altre regioni per esempio italiane del centro nord. In effetti è un dato estremamente preoccupante per certi versi, perché probabilmente il meridione d'Italia, luogo in cui si acuisce questo problema, ha avuto da sempre l'abbandono scolastico, ha avuto da sempre le difficoltà maggiori per continuare un percorso che poi portasse ad una definizione delle competenze. E in effetti il prodotto che poi si è ottenuto nasce proprio da questo vuoto che si è lasciato. L'istruzione, l'abbandono dell'istruzione non si è connesso così come sarebbe stato necessario con il sistema di formazione. Probabilmente non sono state valorizzate le competenze dei singoli che, a prescindere dal percorso di studi magari interrotto, non è riuscito a dimostrare le competenze e quindi mettere sul campo con una qualificazione adeguata. E questo può diventare un fenomeno estremamente esplosivo. Dobbiamo però riconoscere che il sistema che ha riportato i NIT sulla crescita dell'onda, questa è la terminologia, ma soprattutto i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione, il sistema Garanzia Giovani ha offerto una soluzione. Di questo parleremo tra poco, parleremo del rapporto con le imprese. C'è questa funzione, parleremo anche dei vostri corsi gratuiti peraltro, però ho una curiosità. I giovani che non lavorano, non studiano e non fanno formazione sono un po' come i fantasmi. La vostra funzione è anche quella di intermediazione, di andarli a scovare. Come fate per trovarli? Perché voi dite, facciamo dei corsi gratuiti, pubblicizzate la coppa, però non so come... Allora, anche questo è un problema che noi stiamo cercando di risolvere con le tecniche più moderne di comunicazione, di marketing, perché noi dobbiamo scovare questo paio di milioni. Stiamo parlando anche di giovani energie che sono anche un po' frustrate, cioè hanno smesso di studiare, hanno smesso di cercare lavoro e magari non hanno nemmeno intenzione di fare una formazione. Diciamo che sono largamente sfiduciati, non ci credono più. Come fare per recuperarli? Allora, noi abbiamo fatto una piccola indagine, innanzitutto sul territorio, un'indagine molto pratica e abbiamo rilevato che... Quando parli di territorio parli di... Io sto parlando in questo momento della nostra Irpinia. Della provincia di Alemane. Diciamo che praticamente è localizzato questo intervento che noi stiamo facendo, perché abbiamo fatto un'indagine, abbiamo riscontrato che è innegabile che non c'è grande possibilità occupazionale in questo momento. Però è anche vero che probabilmente non si è ricorsi a delle professionalità adeguate ai momenti che stiamo vivendo. Allora, come interessare questi giovani? Non tanto facendo dei lunghi percorsi formativi, che pure sono necessari in talune situazioni, ma cercare di appassionarli alle professioni. Mi pare che nei vostri corsi, come dire, avete anche un approccio personalizzato, quindi questo, come dire, far ricavare e far risvegliare in questi giovani, insomma, la voglia di rimettere, di mettersi in gioco, perché non è colpa loro se non sono stati chiamati a giocare. Assolutamente. Infatti noi stiamo facendo dei percorsi che, oltre ad avere tutta una fase di orientamento e di accoglienza e quindi di individuare le competenze di entrata, noi stiamo praticamente sviluppando dei percorsi molto brevi, formativi, per capire effettivamente quali sono le tendenze e se si riesce a far scoccare la scintilla nel discente. Perché oggi, ad esempio, parlare di un contabile non ha granché senso, ma bisogna parlare di un contabile che operi con grande dimestichezza sulle procedure informatiche. Parlare di un responsabile di segreteria non ha granché senso, se noi immaginiamo che deve rispondere al telefono. Il responsabile di segreteria deve avere una serie di caratteristiche e di competenze che partono dalla capacità di accogliere fino alla gestione. Infatti i vostri corsi, responsabili di segreteria, programmatore web, manager alberghiero, contabile informatico, chi sono intanto i vostri docenti? Che tipo di qualificazione e di autorevolezza hanno? Allora, per i vari corsi ci sono diversi docenti. Noi facciamo ricorso a dei docenti e a degli accademici per quanto riguarda la parte teorica. Mi riferisco soprattutto ai primi due, sia il responsabile di segreteria e programmatore web. Noi ricordiamo proprio a docenti di chiara fama che sono accademici universitari. Per almeno una metà del corso e un'altra metà del corso noi la sviluppiamo con professionalità che hanno una ultradecennale esperienza, perché sicuramente riescono a far toccare con mano quello che è effettivamente il risultato di un percorso formativo, che seppur breve e perfettamente dilatabile, prevede una fase successiva che è un tirocinio in azienda. Ecco, qui volevamo arrivare. Selezionate, formate, l'incrocio con le aziende come avviene, il vostro rapporto con le aziende e che tipo di attenzione hanno le aziende nei confronti del vostro lavoro, della vostra ricerca. Intanto, io prima ho detto che abbiamo fatto una pratica indagine di mercato, quindi queste professioni provengono da una sorta di richiesta che le aziende hanno fatto. Molti studi di consulenza fiscale, ad esempio ci hanno chiesto i contabili informati. Sono corsi mirati al mercato, al mercato del lavoro. Certamente, noi oggi non guardiamo più alla formazione, ma noi guardiamo al placement. Per cui noi siamo partiti dalle aziende, che sono evidentemente lo snodo determinante, fondamentale di tutto il discorso che noi stiamo facendo, perché a noi la formazione interessa se finalizzata ad un obiettivo preciso. Allora, le aziende hanno mostrato, io opero nel settore dei servizi da oltre 30 anni, e quindi tutti i contatti che stiamo capitalizzando con le aziende li stiamo rendendo disponibili anche all'Agenzia per il lavoro e abbiamo avuto una risposta più che positiva. Perché, come ho prima accennato, se è vero che è innegabile che non ci sia una grande disponibilità ai posti di lavoro, però io ritengo che se ci sono le professionalità giuste che colgono le esigenze delle aziende, noi possiamo tentare di dare una mano alla soluzione. Possiamo, capisco, nel caso dell'Aisco, parliamo di un'agenzia nata, abbiamo detto, meno di un anno fa, ma insomma c'è qualche risultato incoraggiante che avete raccolto in quest'ultimo anno rispetto alla collocazione nella formazione presso le aziende e anche rispetto alla possibilità di aver trovato lavoro. Allora, l'Aisco finora ha intermediato, appunto, ha fatto un'agenzia tra le aziende e le risorse, i profili che si sono iscritti. E questo è ciò che magari noi stiamo migliorando con la costruzione di una piattaforma dedicata alle risorse umane per tenere sempre vivo il loro curriculum, quindi offriamo un servizio, ma soprattutto noi andiamo ad iscrivere per fare il matching tra domande e offerta di lavoro. Finora devo dire che praticamente di tutti i tirocini che noi abbiamo messo in pista, il 10% è un numero incoraggiante, quindi il 10%, circa 10-12%, ha trovato una stabilizzazione. Ha trovato una stabilizzazione. Non è male il 10%. No, abbiamo superato i criteri di efficacia e di efficienza che la stessa Regione Campania ha detto per gli accreditamenti per quanto riguarda altre forme di servizi erogati. Quindi noi superiamo il 50% dei criteri minimi stabiliti. Quindi per noi è molto incoraggiante. Questo ci ha consentito di investire in maniera massiccia su questa piattaforma che ci consentirà di avere da un lato le aziende che fanno richiesta e quindi le specifiche di ogni profilo richiesto. Da un altro avremo tutti le risorse, i profili che intendono iscriversi che saranno presenti in questa piattaforma e si potrà fare il matching tra la domanda e offerta di lavoro. Noi, con la disponibilità della nostra organizzazione, a formare in maniera più specifica delle professionalità già esistenti. Ad esempio, il programmatore web non è un programmatore normale, evidentemente, però deve avere delle conoscenze ben precise perché il settore ormai tende assolutamente a piattaforme in cloud, su mobile, eccetera. Allora noi dobbiamo sviluppare queste professionalità. Il programmatore SICCAT Simpliciter non ha più granché senso. Garanzia giovani, abbiamo detto delle iniziative, delle misure, anche delle risorse non insignificanti che per stare alle regioni vengono messe in campo con il programma Garanzia giovani. Da questo punto di vista, la vostra attività rispetto a queste iniziative legislative, come funziona? Allora, Garanzia giovani è sicuramente un programma che stimola moltissimo. Così come è declinato in Campania, ha avuto già un buon successo, ma deve ancora migliorare perché la regione sta facendo degli sforzi ma deve fare di più per poter garantire una risposta più adeguata alle esigenze della nostra regione. Però devo dire che Garanzia giovani ha dato una scossa sia alle imprese sia ai giovani. Quella scossa di cui si parlava prima è la data Garanzia giovani perché è stato diffuso, è stato ricepito con un po' di ritardo e soprattutto ha sottolineato Garanzia giovani con delle modifiche normative, e parlo del decreto legislativo del 1313 che parla di mettere in evidenza e quindi mettere in trasparenza le competenze dei singoli, quindi quasi evitando il percorso formativo se le competenze ci sono. Mi spiego. Se ad esempio noi troviamo un soggetto che fino a ieri ha fatto il pizzaiolo presso una magari con forme di lavoro discutibili, noi oggi possiamo comprendere tutte, possiamo mettere in trasparenza tutte le sue competenze, le sue abilità, le sue conoscenze e possiamo addirittura attestare che in maniera ufficiale, quindi nel rispetto della legislazione nazionale ed europea, possiamo attestare che egli è un pizzaiolo finito, quindi superando completamente il percorso formativo che prima era l'unico mezzo per attestare delle competenze. Ecco, c'è anche da dire che... Questo ha dato la velocizzazione che in un concerto di norme è stata poi, come dire, ha liberato un po' di forze, un po' di risorse, un po' di energie. Quello che bisogna rimarcare, sottolineare con evidente soddisfazione è che insomma stiamo parlando di formazione, stiamo parlando di giovani che non lavorano e non studiano più, è finita finalmente la formazione che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa, una sorta di carrozzone inutile su cui tutti quanti salivano e scendevano a piacimento senza realizzare praticamente... Sono passati alla storia in tutte le regioni, anche in Campania, i famosi corsi di formazione di tagli e cuscito, di parrucchiere, cioè non è che non servano, il problema è che erano così impalpabili ed eterei fino a diventare, come poi ci sono dimostrati, inutili. Insomma, da questo punto di vista possiamo dire, le difficoltà ci sono, ma possiamo dire che si è voltato pagina rispetto ad un passato non troppo glorioso che ha riguardato la formazione dei giovani. Sono in parte d'accordo, devo però difendere la formazione, perché la formazione... No, ma quella formazione... Quella che dice quella parte... No, no, per l'amor di Dio è soltanto... No, no, mi fa piacere di mettere un po' di sale... Dimmi un po' le... Io ritengo che la formazione sia indispensabile per la formazione degli individui e soprattutto in una società come la nostra che, se si pensa che fino a 20 anni fa noi non avevamo il computer in tasca, quello che oggi fa pure da telefono, insomma, voglio dire. Allora, immaginiamo che cosa significa l'evoluzione, quindi se non ci fosse stata la formazione, vuoi quella sul campo, quindi quella informale, vuoi quella privata che ognuno va a migliorare le proprie competenze, quindi la non formale, noi probabilmente non stavamo ai livelli in cui stiamo. Io mi riferivo però, quando parlavo di quella formazione, per esempio al mancato, all'assoluta indipendenza, alla mancanza di pur minimi riferimenti al mercato del lavoro. Si facevano i corsi, punto. Poi te lo trovi... Ha ragione. Ha ragione su questo, ma stiamo parlando veramente di più di qualche ventennio fa. Eh, ma è durata tanta questa cosa che ci ha messo il suo peso. Perché poi la Regione, intelligentemente, ha posto dei livelli di efficacia e di efficienza degli interventi. È ovvio però che la gran cassa, che la formazione è di per sé stessa, insomma, perché immaginare 100.000 euro per fare un corso di formazione, sono l'80%, il 90% va a favore dei docenti e dei discenti, con una rendicontazione, dire precisa e pignola, puntuale, è poco. Ecco. Quindi voglio dire, poi si degenera in qualsiasi campo. Sul fronte delle aziende voi vi occupate anche di fornire strategie rispetto a strategie imprenditoriali, industriali che dovessero intervenire come cambiamento nelle aziende, avviando appunto dei percorsi formativi per adeguare il personale a questi nuovi processi. Con la cosiddetta industria 4.0 le cose un po' si semplificano, ma anche si complicano parecchio. Si semplificano se c'è una formazione adeguata, quindi noi parliamo di formazione continua. All'interno delle aziende, ogni azienda che si rispetti, quelle per cui noi operiamo, quelle per cui magari si opera quotidianamente, devono immaginare di fare dei percorsi di formazione continua. Magari spesso lo facciamo anche inconsapevolmente, perché io non so se qualcuno ha fatto un corso per imparare Word piuttosto che un foglio elettronico, però lo facciamo inconsapevolmente, ma è necessario. Allora il lifelong learning, parlando di termini anglosassoni, è alla base dello sviluppo delle aziende. E oggi noi non possiamo immaginare l'evoluzione dell'azienda senza mettere in evidenza il capitale umano, che è fondamentale per qualsiasi azienda. Noi seguiamo le aziende nei loro percorsi di ristrutturazione. Quando l'azienda si ristruttura, magari grazie a Industria 4.0, che offre delle grandi opportunità, ma anche semplicemente se fa evolvere un settore dell'attività, anche in maniera molto più semplice, noi seguiamo l'azienda fornendo le competenze, le metodologie, sviluppando programmi personalizzati, come è stato detto all'inizio della trasmissione, fornendo programmi personalizzati, con docenti, che mutuiamo dal mondo del lavoro e, quando necessario, dal mondo accademico. E' un po' questa la nostra filosofia, ma credo un po' di tutti coloro si occupano di questo. Isco a PL, meno di un anno fa, è nata e funziona con sede alla Tripalda. A casa si staranno chiedendo, Pasquale, ti faccio la domanda, i corsi sono gratuiti, i rapporti con le aziende implicano, voi che ci guadagnate, come ci guadagnate su questa cosa? Cioè, guadagnare non significa speculare, attenzione, significa avere gli strumenti a disposizione per poter esercitare questa mediazione molto importante, non basta più l'ufficio di collocamento, insomma, questo è il punto. Tra l'altro si tratta di agenzie autorizzate dal Ministero, quindi, insomma, da dove prendete l'ossigeno per potervi muovere poi? Allora, noi siamo imprenditori, quindi nasciamo imprenditori, e quindi noi abbiamo l'obiettivo di produrre di reddito. Nell'APL specifica, cioè, secondo me è un principio che deve essere veramente fatto salvo. Noi non possiamo immaginare di svolgere questa attività pensando al lucro, esclusivamente al lucro. Se si pensa di svolgere l'attività di agenzia per il lavoro pensando al lucro, sicuramente si colgono delle occasioni, ma non si istituzionalizza un percorso. Non pensando al lucro, ma investendo, quindi dando servizi soprattutto ai profili che si iscrivono alla nostra agenzia, piuttosto che a un'altra, alle aziende che risolvono i loro problemi e quindi che finalizziamo, il profitto è automatico. È automatico, perché nel momento in cui io riesco a mettere sul campo 20 soggetti abili alle richieste di mercato, io nel momento in cui li colloco, il Ministero del Lavoro mi restituisce una premialità. Quindi io non devo, l'approccio deve essere questo, dobbiamo essere apparentemente filantropi, però pensando che la conseguenza sarà il successo anche economico. Questo è un elemento che non conoscevo, per esempio, quindi questo implica un rapporto molto aperto e trasparente, per esempio con le aziende, con i ragazzi e con i giovani, essendo il Ministero quello che poi alla fine del percorso, quando si è compiuto il percorso, quando si è finalizzato il percorso. Noi non possiamo, chiedo scusa, è una precisazione, noi siamo, abbiamo detto, abbiamo, svolgiamo le funzioni che svolge un centro per l'impiego, più o meno, e quindi siamo un centro per l'impiego privato, ma noi dobbiamo lavorare per ottenere dei risultati e soltanto se finalizziamo la nostra opera, quindi se noi mettiamo in condizioni di assumere o di accompagnare una delle forme di accompagnamento al lavoro, piuttosto che di autoimpiego, noi riusciamo ad avere la premialità dal Ministero. Per cui non dobbiamo pensarci, dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro. Nel momento in cui lo si fa bene la premialità arriva e si capisce il discorso che Pasquale Pensa poco fa ha fatto. Bene, io penso di, avremo altre occasioni, perché mi piacerebbe mettere a confronto in occasione di altri momenti informativi le esperienze di queste agenzie per il lavoro private, ripetiamo, autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Poderiche Sociali con altri soggetti, perché il problema dei giovani, anche e soprattutto nel Mezzogiorno, anche in provincia di Avellino tra i 15 e i 29 anni sfiduciati, che non hanno smesso di studiare, che hanno smesso anche di cercare lavoro, alla formazione non ci pensano nemmeno, e beh, forse sarebbe, sarà interessante mettere a confronto su questa realtà più voci, compresa quella delle agenzie per il lavoro come la Isco. Bene, Pasquale Pensa, io ti ringrazio molto per le cose che ci hai detto, io vorrei fare il pizzaiolo quando smetto di fare questo lavoro, vengo, mi scrivo, dovrei dimostrare le competenze, quindi devi iniziare sin d'ora a fare la pasta, a impastare piuttosto che a stendere. Comincerò a provarci, non si sa mai, magari poi ci mettiamo insieme. Poi tra l'altro i pizzaioli guadagnerò benino, mi pare di capire. Sì, è una professione estremamente richiesta, noi la utilizziamo proprio perché è molto sulla cresta dell'onda, quindi ci sono delle esperienze importanti che dall'estero, piuttosto che nelle zone di turismo, ma dall'estero vengono richiamati proprio i nostri pizzaioli perché c'è una tradizione evidentemente. Siamo andati all'estero, questa è un'ulteriore buona notizia, ci daremo la mozzarella alla mozzarella e al pomodoro, va bene? Più salutare. Grazie Pasquale Pensa, grazie ai colleghi che hanno collaborato con noi a questa edizione speciale e soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci da casa. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.